Bandiere a mezz'asta e silenzio per un minuto. Alle ore 12 tutta Italia si è unita nel lutto e nel ricordo delle vittime del coronavirus. L'iniziativa partita dal Lanci è stata raccolta anche da tante province e comuni marchigiani. Il presidente della provincia di Pesero, Urbino, Giuseppe Paolini, ha osservato un minuto di silenzio davanti al monumento ai caduti di Monte Guiduccio, frazione del comune di Monte Felcino insieme al parroco Don Alceo Volteggi. Ho scelto di andare in un piccolo borgo dove ci sono poche persone, ha detto Giuseppe Paolini, per far sentire la vicinanza delle istituzioni in un momento come questo. In certi momenti ti accorgi che il silenzio non pone domande ma può dare tante risposte. Così come i soldati morivano da soli in guerra in una trincea o colpiti da un proiettile, anche i malati di Covid-19 stanno morendo da soli e senza il conforto delle persone care. Bandiere a mezz'asta nella sede dell'amministrazione provinciale dove il direttore generale Marco Domenicucci, i direttori e i dirigenti osservano il minuto di silenzio e hanno espresso così la loro vicinanza alle famiglie colpite dai lutti e dai tanti medici ed operatori sanitari impegnati sul territorio per combattere questo terribile virus. L'invito a questa espressione di solidarietà è stato lanciato da UMPI e ANCI che hanno chiesto un minuto di silenzio anche a tutta la popolazione italiana. A Pesaro, in piazza del Popolo, il sindaco Matteo Ricci davanti al municipio, nell'omaggio ai deceduti e al ringraziamento agli operatori sanitari addetto, in giunta abbiamo deciso di intitolare nella piazza del parco Miralfiore un monumento dedicato alle vittime del coronavirus e ai nostri eroi dell'ospedale San Salvatore che stanno combattendo in prima linea contro il virus. Lo faremo appena sarà consentito. Pesaro non si dimenticherà di loro. Anche Fano ha partecipato al minuto di silenzio indetto da Lanci che si è svolto nella mattinata di fronte alla residenza municipale. Il sindaco Massimo Seri, assieme alla comandante della polizia locale Anna Rita Montagna e al maestro Giorgio Caselli che ha suonato l'inno d'Italia, ha osservato il minuto di silenzio, unendosi così virtualmente a tutti i sindaci italiani. Fano partecipa a questo momento di lutto, ha dichiarato il primo cittadino prima del minuto di silenzio. Un periodo di grande difficoltà ma anche un momento per stringerci attorno a tutte le famiglie che hanno perso un proprio caro a causa di questa terribile emergenza. Stesse scene e medesime parole in tanti comuni del nostro territorio, Colli al Metauro, Mondolfo, Pian di Meleto e anche la vicina Senigallia, tutti accomunati da un unico sentimento, superare questa situazione nel migliore dei modi possibile.